A Cosenza quando si parla di acqua di questi tempi si pensa subito alla chedel tra il Comune Bruzzo e la società regionale della Sorical, oppure peggio ancora alla mancanza del prezioso liquido che in questo periodo sta facendo dannare molti cosentini. Ma per fortuna non è sempre così, grazie soprattutto all'ufficio del Comune e gestione reti idriche gestito da tre dipendenti comunali, Pasquale Bauleo, Vincenzo Pagliaro e Michele Converso, i quali coadiuvati dall'ingegnere capo del settore, settimo infrastrutture sempre del Comune di Cosenza, nei giorni scorsi sono intervenuti nel popoloso quartiere di Via Popiglia presso una zona dove mancava l'acqua da quasi un mese e grazie ad alcune specifiche strumentazioni della mia servizio di Catanzaro sono riusciti ad individuare una perdita di acqua dalle condutture. Acqua che si riversava però all'interno, perciò non visibile e di conseguenza non facilmente individuabile. Grazie a queste particolari apparecchiature sono riusciti ad individuare la perdita e ripristinare la normale erogazione dell'acqua. Un lavoro che non finisce qua perché molto probabilmente sono altre le perdite presenti lungo la dottrice del popoloso quartiere e con la possibilità di intervenire si potrebbe riabilitare una parte di conduttura comunale che serve circa 18.000 residenti.